ciao a tutti eccomi qui per una serata di riprese di fotografie come vediamo maxime che funziona sto fotografando con la camera una canon 550 saremmo di sottosfondo stiamo riprendendo una serata stupenda ecco il setup di questa sera con il made da 10 6.3 nativo quindi un bel telescopio da 30 anni circa 25 sicuri e stiamo con uno sky 80 id come per inseguire con l'asi da 120 siamo arrivati a quasi 8 minuti e 23 di disposizione a 800 asa e vediamo appunto cosa cosa ci regalerà questa immagine come potete vedere in seguimento è ottimo piccole correzioni non male dai tutto funziona bene siamo fuori al fresco con una serata stupenda neanche tanto freddo vediamo quanti gradi ci sono allora ci sono esattamente tre gradi non male dai tre gradi ci sta niente ecco qua come potete vedere abbiamo il doppio schermo dove sono ostellarium come punto di riferimento e altro come avete visto prima e qui siamo ancora inseguendo adesso vi mostro in diretta il risultato bloccherò a 11 minuti e mezzo vediamo cosa esce logicamente ne avrò bisogno parecchi di questa di queste esposizioni stasera per poi fare lo stacking ecco qua eccola qua ecco qua il risultato ciao